Attenzione, dal 1 luglio entra in vigore il nuovo limite sull'utilizzo del denaro contante in Italia. Le violazioni saranno pesanti sia per chi eseguirà pagamenti non regolari, ma anche per chi li accetterà. Il nuovo limite è fissato a 2.000 euro, destinato a scendere a 1.000 euro da gennaio 2022. L'introduzione del nuovo limite all'uso del contante era già stato stabilito dal Decreto 124 2019, collegato alla legge di bilancio come ulteriore strumento nelle mani del Governo per la lotta all'evasione fiscale. Qualora si superasse la soglia stabilita di 2.000 euro dal 1 luglio, scatterebbero sanzioni salate fino a 50.000 euro per operazione.